Due viaggi carichi di speranza, ma soprattutto di solidarietà, quella della ciociaria. Da Torrice alla Polonia, al confine con l'Ucraina, per portare sollievo e conforto, ma soprattutto per portare pacchi pieni non solo di beni essenziali, ma d'amore. È questa la missione dell'Associazione I Viandanti di Torrice. È stata una solidarietà bellissima, devo dire che non ce l'aspettavamo perché siamo partiti dal primo viaggio, poi subito dopo dieci giorni ci siamo subito messi in moto per il secondo. Hanno collaborato con noi tante parrocchie, la parrocchia San Paolo di Frosinone e tante scuole qua della ciociaria. È stato proprio un abbraccio di tutta la ciociaria, è stato bellissimo proprio questo, perché ognuno sapia che quel pacco arrivava a destinazione con pochissime ore, perché il pacco da Torrice a Frosinone arriva in 18 ore in Bologna e arriva subito in mano al profugo che ne ha subito bisogno, quindi è vitale questa cosa qua. Quindi è una risposta bellissima di tutta la ciociaria, più che altro dei giovani, delle scuole, è stato fantastico, veramente bellissimo. Tanti beni raccolti, ma di cosa hanno bisogno i profughi arrivati alla frontiera? Hanno bisogno più che altro di medicinali, perché i medicinali scarseggiano di bendaggi, perché noi siamo riusciti a trovare dei volontari poi ucraini che portano direttamente a Odessa e a Moriopol, le garze e bendaggi disinfettanti che sono su un fronte di guerra necessari per i soldati, poi necessario di mangiare, quindi pasta, scatolame e poi pannolini per i bambini, perché i bambini sono tanti. La solidarietà non ha confini, ma per mettere a punto missioni del genere non ci si può affidare al solo amore verso il prossimo. C'è bisogno di grande organizzazione, c'è bisogno che ognuno faccia la propria parte. I viandanti, in ogni caso memori dell'esperienza vissuta in Polonia, sono pronti a ripartire. Io ripartirei domani stesso, guardi, però purtroppo questi viaggi hanno bisogno di un'organizzazione, hanno bisogno soprattutto di fondi e noi chiediamo, soprattutto, ecco, grazie al vostro aiuto, soprattutto chiediamo l'aiuto ancora delle persone che ci stanno aiutando, perché non molliamo, perché queste persone hanno bisogno, hanno visto che noi trovano sia quel pacco di viveri, ma trovano pure quell'abbraccio di calore. Il pacco è caricato dai nostri bambini con i disegni attaccati, è arrivato direttamente ai bambini là in Ucraina. Quindi questo qua è il messaggio che vogliamo dare noi. Portiamo il pacco, portiamo pure amore.